È stata presentata, io lo confermo, è stata presentata questa diffida e la cosa mi lascia un pochino perplessa, mi lascia un pochino perplessa perché oltre all'amministrazione è stata, credo, notificata, cioè è pervenuta poi se tramite una relata, una notifica, anche ai componenti della Commissione, al Presidente e ai due membri. Quindi, secondo me, ora io non è che sono del mestiere, però sarebbe stato magari opportuno, mi viene da pensare, aspettare che si guidesse la gara, non lo so se con una gara in corso si possono attuare o no queste procedure, è da qui che nasce la mia perplessità, perché, cioè, ma minacciare, cioè diffidare una Commissione ad adempere, questo mi lascia molto perplessa.